Volevo portare un piccolo riscontro, rispetto alla nostra esperienza abbiamo visto una partecipazione molto intensa, non solo del pubblico internazionale ma anche quello italiano, dunque delle visite decisamente importanti, vediamo che le varie divisioni, i vari canali sono molto seguiti, in particolar modo il mondo del networking, vediamo un mercato che dà grandi possibilità anche verso la convergenza col mondo IT e di conseguenza siamo particolarmente felici. In questa occasione facciamo anche un po' di convergenza tra colleghi, nel senso che siamo a parti di connessioni e system integration che ci hanno dato la possibilità di convergere tra colleghi anche a livello associativo, nel senso che anche facendo parte di SIEC abbiamo la possibilità nuovamente di incontrarci e commentare un po' lo stato dell'arte o lo status quo della terza giornata. Come dicevo poc'anzi siamo molto contenti nel senso che ci sono state tante adesioni, credo sarà un altro record per ISEE, ma oltre ad ISEE visto che tutti noi facciamo i nostri grandi investimenti presso questa fiera, un buon risultato per le aziende che vi partecipano sia come visitatori ma anche come espositori, dunque possiamo dire di essere soddisfatti. Un'altra cosa sicuramente degna di nota, vediamo che ISEE cresce in maniera esponenziale anche verso ulteriori verticali, dunque non solo le cose note del mondo audio, video e controllo ma vediamo anche tante verticali parallele o di periferia che convergono verso il mondo della sicurezza, verso il mondo del networking ancora più avanzato e dunque questo permette ancora di più la facilitazione verso la convergenza col mondo IT e questo è sicuramente molto importante.